Ciao a tutti io sono Roxy e in questo video vi voglio far vedere come ho realizzato la spilletta di Louise di Zero Not Tsukaima. Quello che vi serve è una spilletta rotonda come questa e una pallina di dust o paper clay. Come prima cosa sono andata a incastonare la spilletta dentro il dust in questo modo. Poi con le mani ho cercato di rendere la superficie del dust liscia liscia e di dargli una forma rotonda. Poi ho utilizzato una matita per disegnare una stella a 5 punte così e poi con un pennellino umido sono andata a pulire il disegno in questo modo. Dopodichè ho aspettato 24 ore e una volta che il dust era bello asciutto lo sono andata a pitturare. Ho utilizzato questa pittura spray dorata prima sul retro e poi una volta asciutto quello sono andata a pitturare la parte frontale. Ho anche fatto una passata di pittura trasparente e questo è il risultato finale. Come potete vedere è super semplice e se volete ora dei dettagli sul costume o su come ho fatto il trucco basta che cliccate sulla i o nel link nella descrizione. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet, vi ricordo che le magliette, il poster e le felpe con il virtual hug sono in sconto e qui vi lascio altri due video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao felice cosplay! Mua!